I libri magari, se arrivano, quarta che tiove, quarta che tiove, consegniamo allora a Rossella dei libri, mettiamo quasi una sedia, è un libro della Val Sugana, così si ricorderà anche della sua terra, della sua zona, se non l'ha dimenticata, penso di no, e poi abbiamo per Leopold il vino, per il loro, per il gruppo, grazie, del vino, il Gevur Framiner della Tomaggi del Trentino, e questo è un libro, grazie, 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 grazie,